Un saluto da Biori Cipardo e Stefano Nava, siete pronti per questa sfida della FUT Champions Weekend League? Sera 4-4-2 col centrocampo a rumbo e ovviamente con un trequartino... Lukaku! E c'è la presa sicura del portiere. Ha spazio per tirare! Puntano molto sulla potenza e la... Bello il suggerimento di Rakitic. Gran palla per Coutinho. Occasione fallita per mettere la freccia. Prova a sorprenderlo. Sono andati a un passo dal gol. Il portiere ci ha messo una pezza con un intervento d'applausi. Ha tolto la palla dalla porta con un balzo. Bello! Risultato che si sblocca subito dunque. Grande partenza. C'è spazio, occasione. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Palla che finisce in corner. Occhio al corner. Bello! Ha optato per la potenza, ma ha visto i risultati. Forse era meglio andare sulla precisione. Penny Hedder. Attenzione a Suarez. Prova ad andare. Conclusione da vedere e rivedere, Stefano. Gol dirà la bellezza. Firmino. Fernandinho! Allora intercettato senza problemi. Modric. Gran palla in mezzo. Ed entra in rete. Gol! Palla che viene controllata. Pericolo. Occhio a Willian. Ha avuto coraggio qui l'attaccante. Continua una girale. Epa! Mares! Sicuro l'intervento del portiere. Gabriel Jesus. Buon pallone filtrante. Palla intelligente per Willian. Hanno accorciato le distanze con questo gol. e cercano la rimonta perfetta. Luis Suarez. Juan Fran. Juan Fran. Luis Suarez. Lancio fuori misura. Palla recuperata senza problemi. Attenzione per il gol. Oh no! C'è la sola potenza in questo tiro. Occhio a questo lancio. Ecco Lukaku. Cerca il secondo palla. Colpo di testa che finisce fuori. Che occasione sprecata. Nei propri giocatori. Vedremo se e come cambierà la partita in questo secondo tempo. Lukaku. Lukaku col tocco filtrante. E c'è il gol! Palla in rete! Si avvicina all'area. Salta il difensore. Gran palla. Trova la botta. Trova la botta. Ed è gol! Rete! Palla nuovamente in possesso. Occhio al pallone filtrante. Attenzione a Willian. Crossa verso il centro. Mares! Portiere che si allunga. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Lukaku col tocco filtrante. Gran palla dentro. Gabriol Siasus. E sarà a calcio d'angolo. Pallone in mezzo. Lukaku! Ed entra in rete! Gol! Sentiamo da Matteo Barzaghi quanti minuti restano ancora da giocare. Sul cronometro, Pierre, mancano ancora 15 minuti al novantesimo. Grazie. Da profondo firmino. Lukaku col tocco filtrante. Non hanno perso tempo. Un altro gol. Gabriel Siasus. Buon pallone filtrante. Uno, due vicidiale nel giro di pochi minuti. Suarez. Occhio a cross. E il pallone se ne va via. Gabriel Siasus. La difesa rientra, svanisce l'inerzia nel contropiede. Match che finisce qui.